sabato pomeriggio ciao a tutti ciao a tutte stavo leggendo una notizia del paragone punto it non posso non posso fare altro di riportarve perché è veramente interessante ne ho parlato anche questa mattina nelle notizie perché in verità è anche sui giornali italiani e in particolare una notizia che che farà discutere ha fatto discutere e farà discutere perché zuckenberg in un'intervista ha ammesso quello che noi pensavamo quello che più volte abbiamo ipotizzato e soprattutto quello che i alcuni fact checker volevano tenere nascosto dicevano non è vero è tutto falso allora dal momento che la notizia un'intervista affidabile di mark zuckenberg il fondatore di meta nonché proprietario di meta e ci tenevo a fare due chiacchiere con voi a riportarvi questa notizia premettendo una cosa premettendo una cosa che che potrebbe far sorridere cioè potrebbero addirittura bloccarmi questa divulgazione di notizia il paradosso potrebbe essere quello che io sto parlando di questa incredibile ammissione di mark zuckenberg ovvero della censura che c'è stata c'è stata su facebook e su sui social network in generale ma anche su facebook e lui ha ammesso di questa censura in un'intervista molto interessante però la cosa paradossale che adesso potrebbero bloccarmi il video per censurarlo quindi pensate pensate che cosa strana andiamo a leggere ma non sarà così sicuramente non sarà così attendo che l'algoritmo invi la notifica di questa di questa mega notizia a tutti e in questo sabato 10 giugno sabato pomeriggio mi dicono che stanno arrivando le notifiche intanto saluto i primi di voi abbiamo lì l'abbiamo consiglia roberti giovanna all'ore patrizia nicolas carlo clemente ciao buongiorno ragazzi e ragazze vedo i primi collegati siete in tanti e andiamo subito al sodo andiamo subito al sodo allora la scienza sto leggendo sul paragone questo articolo di tommaso croco che riporta in verità una notizia quindi nulla di più fa che riportare un'intervista reale di mark zuckenberg quindi nessuno può dire il contrario la notizia è vera e soprattutto un'intervista reale una missione che ha fatto rumore quello di mark zuckenberg dice l'articolo di tommaso sul paragone punto it che ha confermato senza troppi giri di parole come facebook si sia impegnato ad applicare una censura costante verso determinati contenuti durante il periodo della pandemia quando esprimere opinioni contrarie al pensiero scientifico dominante era quindi di fatto vietato fino qua lo sapevamo già lo sapevamo lo dicevamo e lo sapevamo attenzione l'occasione per affrontare l'argomento arrivata in una lunga intervista che l'ex friedman ricercatore esperto in intelligenza artificiale al mit ha organizzato con il fondatore della popolare piattaforma social concedendosi il lusso di rivolgere a mark zuckenberg a zuckenberg anche qualche domanda scomoda che fin qui l'imprenditore aveva sempre evitato fin qui ma adesso ha risposto avendo risposto pubblicamente anche questa mia diretta dovrebbe essere normale normale perché mark zuckenberg stiamo riportando cose che hanno detto mark zuckenberg nulla di più domanda la quale ha risposto il contenuto del faccia faccia è stato riportato dalla verità in italia il quotidiano la verità ok che dà fastidio a molti interrogato sulla disinformazione zuckenberg ha spiegato senza troppi giri di parole che ci sono alcuni argomenti che sono considerati pericolosi dalla comunità come per la pedofilia il terrorismo e la violenza poi ci sono altri temi sui quali la società dibatte come il covid a inizio pandemia c'erano reali implicazioni per la salute e fin qua tutto vero tutto vero poi l'ammissione temo che una parte delle dell'establishment detto malissimo si sia in un certo senso confuso su alcuni elementi fattuali attenzione attenzione qua c'è il punto importante chiedendo di censurare moltissime notizie che col senno di poi si sono rivelate quanto meno discutibili quindi non sta dicendo vere e false discutibili se non addirittura vere se non addirittura vere attenzione c'è il condizionale quindi a te prendetela con le parole giuste quindi con le parole giuste ha detto sono state censurate in sostanza notizie quanto meno discutibili se non addirittura vere c'è il condizionale quindi non sta dicendo che siano vere neanche false se il dubbio è lecito come dice robbi giusti in sostanza zuckenberg mark potevi dire potevi dire mark come dice robbi giusti il dubbio è sempre lecito me lo sarei aspettato da te dal momento che io lavoro sulla tua piattaforma però non l'hai detto questo a lungo andare ha allogorato la continua zuckenberg questo a lungo andare ha allogorato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e vorrei dire marcaro mark anche nei social network perché dal momento che venivano bloccate le persone senza nessun motivo solo perché una persona poneva delle domande veniva bloccata venivano censurati i contenuti la fiducia viene a mancare sì nelle istituzioni quanto nei social network quanto nella tua piattaforma nella piattaforma di altri attenzione andiamo avanti però ancora più grottesco il fatto che zuckenberg abbia ammesso quanto sia difficile distinguere i fatti dalle opinioni per il nostro algoritmo ci limitiamo a domandarci se una se un'informazione sia un pericolo oppure no avete capito quindi sostanzi io che ho sempre posto il dubbio alcuni miei video sono stati limitati o bloccati si chiama anche shadow banning perché perché io ponevo dei dubbi delle domande chiedevo però l'algoritmo faceva fatica a riconoscere i robbi giusti che poneva la domanda il quesito da quello che invece faceva magari l'affermazione vera e propria o il complottista o dall'altra parte il convinto di una cosa attenzione infatti dice ci limitiamo a domandarci se un'informazione sia un pericolo oppure no basta si conclude qua quindi è molto interessante questa questa dichiarazione di mark zuckenberg è pubblica quindi una cosa pubblica nessuno può dire il contrario e i fact check non possono dire nulla perché è tutto vero tutto vero è stato durante questo intervento del fondatore dell'intelligenza artificiale zuckenberg ha posto delle domande zuckenberg molto interessanti alle quali zuckenberg non ha potuto che rispondere in modo onesto dicendo noi in effetti bloccavamo tutto l'algoritmo faceva fatica a distinguere le domande le semplici domande gli interrogativi della gente tutto da quello che erano le affermazioni e quindi in effetti alcuni argomenti venivano vengono vengono tuttora bloccati perché fastidiosi perché scomodi perché pericolosi perché ritenuti dalla comunità pericolosi o inadatti vabbè grazie per ogni tanto viene fuori la verità ogni tanto viene fuori la verità detto questo vi saluto buona giornata chiederei un vostro parere molto interessante l'argomento interessante noi lottiamo per l'informazione libera per il diritto il diritto almeno a chiedere avere il dubbio da tre anni a questa parte e vorremmo vorremmo veramente delle delle risposte vorremmo che e che che il che l'algoritmo non bloccasse perché una persona si pone semplicemente delle domande perché se domandare non è più lecito porre domande non è più lecito avere dei dubbi non è più lecita c'è qualcosa che non funziona amici e si perde non solo la fiducia nelle istituzioni ma anche la fiducia nei social network e nel prossimo detto questo vi saluto buon pomeriggio ci sentiremo verso sera per le notizie clamorose ce ne sono due pesantissime però fino alle 18 sicuramente non ve la non vi dirò nulla ci sentiamo più tardi ciao a tutti e patrizia ha detto una cosa che ci sta ci sta ciao a tutti buon pomeriggio vi voglio bene e viva la libertà vive l'informazione vive la libera informazione e grazie mark per aver risposto alle domande io mark non l'ho molti dicono è mark zuckenberg no io lo io lo stimo perché ha fatto una cosa molto interessante che facebook io lo uso quotidianamente è chiaro che non roviniamo facebook con chi con con i comandanti supremi che vogliono bloccare la libertà di informazione lasciateci liberi di parlare tra di noi è chiaro che va fermati i criminali vanno fermati le persone pericolose ma non chi pone domande semplici domande o che si chi parla e si domanda si domanda se sia giusto o meno una cosa c'è ancora libero arbitrio no ciao tutti ciao mark